Sardegna è mare Sardegna è storia Sardegna è montagna Sardegna è tradizione Ma la Sardegna è anche per esempio San Gavino Monreale e i suoi murales San Gavino è oggi il paese di artisti L'associazione culturale Schizzi da diversi anni ormai in prima linea Per la riqualificazione urbana del paese L'obiettivo? L'arte In tutte le sue forme più genuine e variopinte Un vero e proprio museo a cielo aperto Più di 60 opere realizzate da artisti di fama internazionale Hanno ridato vita a muri, piazze e angoli abbandonati Girare per le vie di questo paese È una sensazione unica E allora passeggiate, passeggiate perché dietro ogni angolo c'è una sorpresa Venite a conoscere la Sardegna Una Sardegna a 360 gradi Grazie a tutti Grazie a tutti